Ci ha lasciato così, all'improvviso e ci ha lasciato davvero tutti senza fiato. Luca Bindi, il nostro storico del cinema, che da quasi cinque anni ci accompagnava nelle presentazioni del film, nei nostri weekend al cinema, che tanti bei film hanno proposto su Teletruria, ci ha lasciati, come dicevamo, un malore improvviso che lo ha stroncato a 59 anni e che ci ha lasciato, dicevamo, davvero tutti senza fiato. Prezioso collaboratore di Teletruria, si apprestava, come tutti noi, a sottolineare e celebrare i 50 anni della nostra emittente, commentando con tanta puntualità i film che in ogni fine settimana e nel periodo festivo, Natale e Pasqua, vi abbiamo offerto. Luca aveva una compagna, una figlia, ed era, dicevamo, prezioso collaboratore della nostra emittente, che ha arricchito con i suoi commenti puntuali e soprattutto competenti. Grande studioso del cinema, protagonista spesso alle iniziative a Torino Film Festival e anche in altri ambiti. Luca lascia un enorme vuoto in Teletruria, un enorme vuoto tra gli amici, i parenti, appunto la compagna, la figlia, Chloe, e sicuramente ci mancherà, perché ha arricchito Teletruria di cultura cinematografica, di cultura generale e ha dato davvero tanto alla nostra emittente, per questo che noi continueremo ad offrire film e avremo anche un piccolo omaggio il 23 giugno, una registrazione che avevamo fatto proprio per presentare un film.